Oggi argomento importantissimo, SEN, Strategia Energetica Nazionale. Venerdì 10 novembre il Ministro dell'Ambiente Galletti ed il Ministro Calenda per il Ministero dello Sviluppo Economico hanno finalmente presentato la Strategia Energetica Nazionale dell'Italia da qui a 2030. Arriviamo chiaramente un po' dopo altri stati tipo Canada, Gran Bretagna, ma ci siamo arrivati e questo è un documento importantissimo. Perché importantissimo? Perché l'Italia ha deciso di adottare delle linee guida che hanno un significato importante per il nostro futuro, futuro ambientale e perché no anche economico. L'investimento è importante, si tratta di 175 miliardi di Euro, dei quali 35 miliardi dedicati all'implemento delle energie rinnovabili. Energie rinnovabili che vedranno la percentuale di incidenza sulla produzione di energia elettrica entro il 2030 fino al 28%. 28% di energia elettrica consumata, prodotta per il consumo italiano sarà prodotta da energie rinnovabili. Questo è un risultato importantissimo, è un obiettivo importantissimo che ci deve far pensare. Ancora di più ci deve far pensare il fatto che per raggiungere questa percentuale passeremo per il 2025, data in cui in Italia non ci saranno più centrali di produzione di energia elettrica a carbone. Altro risultato importante sotto l'aspetto ambientale e ripeto anche sotto l'aspetto dei costi, andremo a produrre energia pulita a costi inferiori. Ultimo aspetto, ma non ultimo per importanza, è l'incremento dei carburanti sostenibili. Questo legato al fatto che sicuramente entro il 2030 avremo in Italia almeno 5 milioni di veicoli elettrici, per cui anche viaggiare su ruote sarà, oltre che meno costoso, sostenibile.